Dopo non aver girato video per mesi, eccomi qua a farne un altro pochi giorni dall'ultimo. L'ultimo è stato un'occasione di incontro, di confronto con molte altre donne che affrontano il percorso della FIVET o che intendono affrontarlo, o anche con persone che comunque ne sono estranea ma hanno manifestato una particolare sensibilità nei miei confronti. C'è un tema di cui si parla molto poco fuori dai forum specifici della fecondazione assistita, che è quello della reazione delle donne che cercano un figlio di fronte ad annunci di maternità, di fronte a nascite, a uscite con amici, con coppie e con bambini. Ovviamente tratto il tema dal punto di vista femminile, ma non perché questo coinvolga esclusivamente la futura mamma o la mamma negata, è un problema di coppia, però comunque da donna e confrontandomi prevalentemente sul web con donne è un argomento che posso conoscere meglio. Ci si sente in colpa, quasi mostruosi, se si ha un momento di tristezza davanti all'annuncio di una gravidanza altrui, magari di una gravidanza arrivata subito, senza fatica, magari di una gravidanza indesiderata, e viene da pensare, ma accidenti, perché proprio a me no, perché a me no che lo cerco tanto, che lo desidero tanto, e viene anche da pensare che lo merito tanto. Perché è vero, razionalmente i figli non sono un premio, i figli non si meritano, ma c'è una parte di noi che non può non fare questi pensieri ed è importante non sentirsi in colpa. Personalmente ho avuto grande fortuna, perché non è un merito, nel non avere particolari problemi nei confronti di figli che considero come miei nipoti. Esco con coppie e con figli, amo moltissimo i miei nipoti acquisiti, anche perché io sono figlia unica, quindi non ho fratelli e sorelle biologici, ma li ho per scelta. Certo, ci sono stati dei momenti in cui ho provato il dolore dell'assenza, ma devo dire che l'avrei provato anche se nel mio cerchio di amicizie nessuno avesse avuto figli, perché comunque io cerco un bambino non perché ce l'ha il mio amico, ma perché comunque è un istinto viscerale connesso col mio essere umano, altrimenti anche l'umanità si sarebbe estinta, quindi è un istinto molto comune. Ci sono persone che non desiderano figli, sono donne e uomini completi, non hanno nessuna mancanza, nessuna stranezza, però io ho questo istinto, quindi che è un istinto sano e rispettabile come chi desidera non avere invece figli. Quello che spaventa è, è lecito provare invidia? È qualcosa di cattivo, di mostruoso, di svilente? No, ci sono pensieri buoni e cattivi. Ci è capitato tantissime volte di parlare con persone molto indisponenti e aver voglia di dar loro uno schiaffo. Non l'abbiamo fatto. Quello che pensiamo non sempre si traduce in azione ed è bene anche che siamo capaci di riconoscere la rabbia e la tristezza e poi sappiamo comunque dominarle. Mia nipote, perché la figlia di mia sorella, anche se è una sorella non di DNA, è nata da qualche giorno, per me è una grandissima felicità. Ogni giorno aspetto di vederne una foto. Mi sono veramente innamorata di questa bambina, mi dispiace che viviamo molto lontane, perché io vivo a Copenagher e lei vive in Italia, però è veramente un motivo di gioia. Ma sicuramente l'annuncio della gravidanza ha spostato un po' quelli che erano gli equilibri di un'amicizia di tutta la vita. Ed è stato anche difficile per me dovermi confrontare con la nascita non prevista di una bambina proprio nella vita di mia sorella. Quindi posso capire quanti hanno vissuto questo anche con sorelle di sangue. A me è tantissimo qualcuno, però al contempo direi, ma accidenti, perché a me non è capitato. Ecco, parlo di questo argomento che forse è quello che più rientra nel tabù della fecondazione assistita. Alcuni pensano che non ci sia nessun problema, quindi a volte mancano di tatto nei confronti delle mamme negate, altri pensano che invece le mamme negate vivono nella perenne ossessione e invidia dei figli altrui. Quindi sono due estremi, entrambi non veri. Bisogna avere un po' di delicatezza, perché comunque non è un dolore facile da gestire, come del resto nessun dolore e nessuna malattia lo è, ma bisogna immaginare che i propri figli sono il centro della propria vita, non di quella degli altri. Quindi gli altri hanno un affetto sano nei confronti dei figli di altrui. E quindi un figlio di un'altra donna, di un altro uomo, al di là del DNA, non mi sto rivolgendo a quello, sto pensando anche a un eventuale figlio adottivo. Non è il mio, cioè non è quello per me. E quindi non mi toglie nulla, non mi priva di nulla. Può farmi per un attimo pensare a quello che mi manca, ma in realtà è solo qualcosa che aumenta lo spazio del mio amore nei confronti degli altri. Io sono felicissima di vedere le mie amiche con bambini. Mi distraggo, i bambini arricchiscono sempre, non possono non rendere felici. E quindi davvero sono proprio fortunata ad essere una zia anche molto amata, non solo dai nipoti, ma anche dalle mamme e dei papà, visto che alcuni nipoti sono veramente piccoli per avere un rapporto affettivo con me. Però mi fanno piacere anche i gesti di delicatezza. Vorrei raccontarvi di quanto è accaduto in occasione di questa nascita tanto attesa che veramente, anche se non pensavo, pensavo che fosse una prova durissima per me, ha invece portato tanta felicità. Quando questa bambina è nata, molte persone hanno chiesto a me come stavo. Addirittura durante le ore del parto della mia amica alcune persone mi hanno scritto in privato per essermi di conforto. La mia amica, due giorni prima del parto, ha voluto farmi un regalo. Cioè ha avuto tempo con il pancione in vista di un parto imminente e di pensare a me per comprarmi un paio di orecchini. Quindi voglio dire, se ci apriamo agli altri e raccontiamo un po' di noi, può capitare che ci siano persone che non capiscano o persone che abbiano così occasione di sfogare la propria infelicità. Perché la cattivedia ha sempre una radice in questo. ma verremo circondati da una serie di affetto e di considerazione che è davvero commovente. Quindi siete felici di diventare zie, fate capire agli altri cosa pensate, sia i vostri momenti di debolezza, sia la vostra grandissima capacità di amare e di accogliere, che non viene minimamente inficiata dalla funzionalità del vostro utero e delle vostre ovaie. Grazie.